Musica Un saluto a tutti i telespettatori dallo Juventus Stadium di Torino Oggi si affrontano Paris Saint Germain e Siviglia Un saluto da Fabio Garesa con me per il racconto di questa partita Ci sarà Luca Marcheggiani Ciao Fabio, godiamoci questa partita insieme Ecco le formazioni delle due squadre La bellezza è iniziata Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Mi aspetto molto dal velocissimo Jesus Navas oggi È un ottimo laterale offensivo con un bagaglio tecnico di tutto rispetto In grado di dribblare qualsiasi difensore Non posso che essere d'accordo con te La mette in mezzo Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio Prova il filtrante Vuole la profondità Può cercare il taglio in mezzo L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante Incornata È mancata un po' di precisione Il Siviglia ha portato tanti uomini in area di rigore Non sono comunque riusciti a realizzare Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo Ci prova Che grande parata Sicuramente non una parata semplice Gesù Navas Sergio Ramos Il portiere da calcio lontano Pallone intercettato Intervento davvero provvidenziale Chega